Risollevarsi riponendo nel dimenticatoio le ultime due partite di campionato, perché purtroppo sono arrivate solo sconfitte e il credo in casa gela. I biancazzurri stanno attraversando una fase calante e i risultati ne sono la logica conseguenza. Nassi e compagni sono reduciti a due cappò di fila, non era mai accaduto in questo torneo. Se a Palmi in Calabria furono alcune decisioni cervellotiche dell'arbitro a pesare sul risultato finale di 4-2, domenica scorsa al Presti contro la Frattese, a determinare la sconfitta per 1-0 sono stati tanti episodi negativi. Primo fra tutti il rigore non realizzato da Campanaro quando si era sullo 0-0 e poi tante azioni da golla non concretizzate. E alla fine, così come accade nel calcio, chi sbaglia paga e il Gela ha racimolato solo le briciole. Due sconfitte che pesano in classifica e come? Per la prima volta la formazione di Pietro Infantino è uscita dalla zona playoff. Nulla è compromesso, ci mancherebbe, ci sono ancora tante partite da giocare, ma l'importante, come dicevamo in esordio, è che si ricominci a fare punti, anche giocando male. Domani il torneo di Serie Dio servirà un turno di riposo, si ripartirà domenica 19 marzo e il calendario prevede per il Gela una gara importantissima. La truppa bianca-azzurra, infatti, sarà di scena a Rende. I calabresi, vittoriosi nell'ultimo turno ad Aversa, sono in piena zona promozione. Hanno 47 punti, il Gela insegue a quota 44 e, lo dice la classifica, un vero e proprio spareggio. Una partita il cui risultato sarà fondamentale per il proseguio del campionato. Ma come sottolineato più volte in questa stagione, se i Gelesi scendono in campo col mordente giusto, nessun risultato è precluso. A Rende il tecnico dovrà far meno dell'attaccante Bonanno, squalificato dal giudice sportivo per un turno, per somma di ammunizioni. All'andata i calabresi furono sconfitti per 2-0. L'autore del primo dei due gol fu proprio l'attaccante Bonanno, l'altro lo segnò Scerra. L'importante, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, è che il Gela scenda sul terreno di gioco con coscio delle proprie forze. Un momento negativo in un estenuante campionato ci può stare fondamentale e non ripetere gli stessi errori.